Il sindaco di Castellabate Marco Rizzo ha attivato il numero amico al quale possono rivolgersi le persone affette da covid e quelle in isolamento fiduciario per ricevere degli aiuti come per esempio la spesa. È un piccolo gesto che offre un aiuto concreto alle persone che vivono questo momento difficile rendendo più semplice il loro isolamento. Il numero amico è 339 87 49 517 e attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 tranne il sabato e la domenica e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18. Si tratta davvero di un gesto solidale che io e l'amministrazione comunale abbiamo voluto predisporre per le persone che si trovano a vivere un momento particolare come quello dell'isolamento per covid. Ha detto Marco Rizzo stiamo vivendo una situazione particolare bisogna essere solidali e disposti ad aiutarci vicendevolmente.